Si sono finti carabinieri per estorcere soldi ad una coppia di anziani. È l'ultimo caso che si registra nella città di Livorno, non nuova, questi episodi che lasciano l'amaro in bocca. I bersagli dei malintenzionati sono i più fragili, spesso portati a credere ciecamente a chi indossa una divisa. Ebba è stata una telefonata fatta da un falso carabiniere ad un uomo. L'invito a presentarsi in caserma per pagare una multa, poi, con un complice, scatta una seconda telefonata alla moglie dell'uomo. Suo marito è stato arrestato e da quella richiesta di denaro per rilasciarlo. Una sorta di riscatto a cui non credere. L'arma non chiede denaro ai cittadini. Ci sono altri episodi che si sono registrati. Attenzione a chi vi chiama dicendo che vostro figlio è stato coinvolto in un incidente e che serve una cauzione per evitare problemi con la giustizia. C'è chi avvicina anziani fingendosi un amico di famiglia, magari un ex compagno di scuola della figlia e che dichiara di essere in difficoltà economica per spillare denaro al malcapitato. C'è chi entra con l'inganno nelle case fingendosi un addetto alla manutenzione. Entra nelle camere dichiarando una fuga di gas e nel frattempo apre i cassetti e arraffa denaro i gioielli. C'è poi chi si finge un addetto delle poste. Quando si ritira la pensione, mai consegnarla a chi dice che c'è stato un errore nel conteggio. Dal comando provinciale fanno sapere che in tutti questi casi o simili è necessario avvisare le forze dell'ordine e chiamare il 112.